...brave negli esercizi sportivi e nel gioco sportivo. I saluti vanno alle scuole di infanzia Statale Montara! Scuole di infanzia Marzalto Montara! Scuole di infanzia Castello D'Agogna! Adesso potete applaudire! Mi sono scelto una presentatrice eccezionale questa mattinata dalla Montara Valentina! Buongiorno a tutti! Bene, manca veramente un pochissimo e stiamo per dare inizio alla manifestazione.